Il viandante per la globalità dei linguaggi è il non avere delle mete precise, il non seguire una strada, neanche maestra sarebbe a dire che qualcuno ha già tracciato, ma il viandante si crea il sentiero che è fatto di sentire, di percezioni, di stare scivolando, cadendo, addrizzarsi, cambiare ogni passo possibilmente della propria strada, quindi una libertà totale senza degli obiettivi prefissati e quindi un gran divertimento in quella che noi chiamiamo la spontaneità creativa, quella che effettivamente scaturisce dall'esigenza attimo per attimo che nell'estetica di Padesana è nel fare, inventare il modo di fare, quindi il sentiero come sensibilità acquisita attraverso l'esperienza per cui il viandante certo lascia delle tracce, però lui non ha voluto né lasciare le tracce né seguire un tracciato, quindi la libertà assoluta da qualunque intenzionalità e poi il piacere anche del tempo. Un viandante non dice stasera devo arrivare a Samarkand, io ci arriverò a Samarkand, però se mi voglio fermare a usare i fiori, a cogliere i funghi, oppure non ho appunto nessun vincolo reale e questo credo che sia la cosa più bella anche che io devo aver seguito durante i percorsi che ho fatto anche con le stimolazioni di Assagioli su un immaginario tutto mio di che cos'è il viandante, visto che io ho avuto delle cose che la gente non si aspetta, tipo da neanche vent'anni e ho conosciuto così Assagioli, una figlia handicappata grave, cerebrolesa, che non comunicava col mondo esterno, non parla tuttora ma si fa capire e ho dovuto inventare veramente di giorno in giorno il modo anche di allattarla, di imboccarla, perché era in un rifiuto totale di quello che tiene in vita tutto, il principio di piacere, quindi ecco io faccio riferimento a questi aiuti che io ho avuto in anteprima per degli incontri da viandante, infatti non è che l'era andata a cercare, però certe volte la disperazione produce l'incontro o la fame produce la scoperta di un frutto che non si era mai conosciuto, quindi ci tengo a dire che il viandante ha tutta questa ricchezza di prospettive e fare una vita da viandante significa ogni giorno ricordarsi che vale più il piacere del percorso che comunque ci creiamo noi, perché anche Omero diceva l'uomo a se stesso i suoi mali fabbrica e la stoltezza sua chiama destino, sarebbe a dire certamente il destino ce lo creiamo attraverso l'atteggiamento che assumiamo rispetto all'esistenza e fare un'esistenza di viandante oggi lo ritengo veramente un lusso guardandomi intorno, perché è tutto finalizzato a qualcosa, è tutto previsione, pregustare, preordinare, predisporre, preoccupati, ecco invece il viandante perlomeno non è preoccupato, è occupato dalla vita per intero e questo è un altro detto di Sant'Agostino che ci quadra con il viandante che la vita non si allunga ma si allarga, quindi il percorso di 100 chilometri può diventare una vita intera, perché tu vai a vedere tutti i nascondigli, ti immedesimi nelle altre forme di vita, cioè la gusti talmente che alla fine secondo il principio di piacere e di spontaneità riesci a creare tante cose che prima in quel bosco non c'erano, ma e questo è uno degli aspetti fondamenti della globalità dei linguaggi però ognuno di questi attimi vissuti come viandante ti permette di registrare in tutti i sensi il tuo percorso di piacere e la sinestesia che è l'associazione delle immagini di tutti i sensi, anche se se ne stimola uno, ci permette, non a me che posso scegliere coscientemente di fare il viandante, ma a tutti gli esseri umani di avere una parte della propria vita come esperienza di viandante, mi spiego meglio, sarebbe a dire non ne sono preoccupata né magari consapevole, però mentre un essere umano tocca una superficie liscia può avere come io in questo momento l'immagine della guancia di mia madre quando era ancora quasi fredda e gli ho dato l'ultimo bacio, però in effetti ho toccato un tavolino e quindi questa dimensione, sapere che rimane in piedi e per quello che ormai è un'esperienza di più di 40 anni, in qualunque stato modificato di coscienza fino ai risvegli dal coma, in cui ho sperimentato per 11 anni e capire che questa è la risorsa più grande dell'essere umano, non ti eri accorto di attraversare la vita, ma il tuo sentimento di un corpo sensoriale globale ha registrato tutto e per associazione, per analogia, tutto riemerge in un attimo, quindi ciascuno di noi riassume costantemente nel presente tutto quello che è il vissuto, mai saputo, dimenticato, stratificato però dentro di noi e quindi siamo vivi per questo, siamo vivaci per questo. Dopo tanti anni di esperienza, posso dire nell'Alzheimer, nelle situazioni di perdita di coscienza vigile emerge più la sinestesia come aiuto a vivere e come motivazione che le situazioni che noi consideriamo materiali, per esempio di mantenere le autonomie, tutte cose molto importanti che però non tengono conto dello spirito, sarebbe a dire dell'essenza che l'essere umano non può mai perdere, che è la propria storia, che è la memoria del corpo, che è la sapienza di un corpo che ha, e qui mi riallaccio anche a tutti gli stimoli che ho ricevuto da Alza Gioli, agli archetipi, sarebbe a dire a qualcosa che non riguarda il singolo individuo, ma un'universalità che ci lega come esseri umani e che ci permette di captare delle cose come importanti, come degli attrattori nell'esperienza del vissuto sensoriale in maniera sempre globale. Da questo deriva un po' la definizione sulla quale ho riflettuto molto di globalità dei linguaggi, sarebbe a dire come siamo globali nel percepire la realtà e registrarla e creare sinestesia per sempre, così siamo globali anche in una restituzione espressiva. Per cui se anche una persona non potrà mai parlare come mia figlia, c'ha però in dotazione dalla natura un corpo, quindi un linguaggio gestuale, una capacità mimica, una capacità di lasciare segni su un foglio scegliendo dei colori oppure di plasmare, accartocciare, far cose che sono segni di sé.